Avviso, a partire da domani non potrai utilizzare la tua carta. È questa l'ultima truffa che corre sugli schermi degli smartphone e che sarebbe già arrivata anche agli aretini. Il mittente sembra essere una banca, quella nella quale il destinatario ha un conto e una carta di credito, ma è tutta una truffa. Il link allegato al messaggio porta ad una falsa home page del sito. Qui chiede di inserire le credenziali del proprio conto, aprendo così ai truffatori la porta per accedere ai propri risparmi. I truffatori, spiega la polizia postale, agiscono sempre a ridosso del fine settimana quando le banche sono chiuse per fare delle verifiche o nel periodo delle ferie. Puntano cioè sul fatto che i destinatari possano essere in vacanza, magari all'estero, e scoprire all'improvviso che la loro carta di credito, forse proprio quella che verrà utilizzata per pagare il soggiorno, non funziona. A quel punto il gioco è fatto, la schermata falsa fa cadere nella trappola le vittime.